Facile e pratico come uno scooter, accogliente e sicuro come un'auto, economico ed ecologico come solo un veicolo elettrico oggi può essere. Biro ha 4 kW di potenza, 4 ruote di comodità per un'esperienza elettrizzante. Splendido il design di questo veicolo elettrico che è già un mito. I vantaggi delle dimensioni ridotte non trascurano la vivibilità di un mezzo pratico e sicuro, il tutto vestito di grandissima e indiscussa personalità. Biro è il primo veicolo urbano elettrico made in Italy con dimensioni contenute e grandi prestazioni. È più piccolo delle comuni minicar e passa attraverso una normale porta antipanico per circolare anche all'interno degli edifici senza il problema di emissioni nocive e nel massimo silenzio. Biro è spinto da due motori elettrici tipo brushless da 48 Watt applicati direttamente sulle ruote posteriori. Il movimento è dato infatti dalla motoruota che aumenta le prestazioni, diminuisce i consumi e riduce al minimo la manutenzione. Il baricentro molto basso assicura una grande stabilità e tenuta di strada. La struttura di Biro è realizzata con un tubolare di acciaio dello spessore di 3 mm che deriva dal settore dei macchinari movimento terra. In quanto a prestazioni raggiunge i 45 km orari. I tempi di ricarica massimi sono di 9 ore, autonomia fino a 70 km in condizioni ottimali. Biro è un veicolo elettrico che si muove rapido e scattante nel traffico di tutti i giorni, evitando code e senza inquinare. Si può guidare a partire da 14 anni con il patentino, senza bisogno di mettere il casco, senza cambiare marce e senza frizione.